Cotugno ricoverati covid non sono vaccinati quattro vittime il direttore del pronto soccorso del Cotugno Nicola Maturo a 696 tv avverte abbiamo 100 pazienti tutti non immunizzati si è abbassata notevolmente l'età media di chi ricorre all'ospedale lucifero rischio incendi e ospedali in allerta il giorno più caldo dell'estate secondo gli esperti pericolo roghi montagna il comandante dei vigili del fuoco bellizi avverte servono comportamenti responsabili per difendersi dall'afa e corso al mare sondaggi napoli manfredi in vantaggio sommaresca l'ex ministro stacca nettamente il magistrato primo sfidante bassolino e il terzo incomodo male la clemente ma numeri alla mano il ballottaggio sembra sicuro intanto nel centro sinistra è caos liste apice crolla antico ponte un disastro annunciato l'episodio all'alba di oggi nel comune sannita un crollo annunciato denuncia il sindaco che aveva inviato una missiva alla provincia prefettura e procura pronto a consegnare la fascia tricolore a mattarella avellino strage di alberi accuse alla regione due platani abbattuti oggi a via l'italia e altri due nelle prossime settimane i cittadini protestano una vergogna e l'amministrazione promette faremo da noi per nuove piantumazioni perché la regione è assente salerno vaccinazioni anche per ferragosto raggiunto il 73 per cento della popolazione l'immunità di greggio in provincia di salerno è ad un passo ma per questo la campagna non si ferma l'asla annuncia il piano anti covid obiettivo somministrare 4 5 mila dosi ogni giorno buon pomeriggio questi erano i nostri titoli ben ritrovati con l'informazione regionale della canale 8 channel tv apriamo questa edizione con l'emergenza coronavirus con i contagi che avanzano e sono 4 i decessi ma la notizia del giorno è l'aumento esponenziale dei ricoveri il cotugno è pieno 100 i pazienti ricoverati sono tutte persone non vaccinate l'ospedale cotugno è pieno i 100 posti letto dedicati ai pazienti coronavirus in questa fase epidemica considerata a basso impatto sono stati progressivamente occupati il cotugno che può contare in totale circa 270 posti letto nella fase acuta della pandemia da un paio di settimane ha visto aumentare progressivamente la pressione dei ricoveri esattamente un anno fa i pazienti erano solo una decina oggi risalgono i ricoveri il direttore del pronto soccorso nicola maturo predica cautela sono ricoveri costanti persone che costantemente sia da casa sia trasferite da altro ospedale tramite 118 tramite ambulanze private vengono in fronte di corso sono tutta gente non vaccinata o quantomeno hanno fatto la prima dose della vaccinazione in rianimazione ci sono i più anziani e malati ma in sub intensiva ci finiscono molti quarantenni quelli sovrappeso sono quelli che rischiano di più vaccinatevi vaccinatevi rispetto delle regole perché nonostante le vaccinazioni si può fare la malattia in forma più lieve quindi non da ospedalizzazione però in quella fase si è anche diciamo contagiosi tra altri per quelli sani tra virgolette ieri intanto quattro vittime tra queste un meccanico trentenne di piazza mercato luigi salvati non era vaccinato ed è morto nella terapia intensiva dell'orito mare si accelera sui vaccini in vacanza con l'unità mobile dell'asl tra cilento e costiera sorrentina in città tre open dei pfizer alla faggianeria di capodimonte con biglietti scontati per visitare il museo intanto il giorno più caldo dell'estate è arrivato lucifero con picchi fino a 45 gradi allerta per i roghi e il comandante dei vigili del fuoco bellizzi dice servono comportamenti responsabili il caldo sta colpendo in maniera incessante la regione campania oggi è il giorno più temuto con le temperature che in alcune zone potrebbero arrivare anche 45 gradi il colpi di calore potrebbero provocare malori per i quali c'è bisogno di assistenza in ospedale ed è per questo che si teme sulla pressione delle strutture ospedaliere già in apprezzione per l'emergenza covid ma il caldo mette in allerta anche protezione civile e vigili del fuoco per gli incendi che possono essere generati non solo per le alte temperature ma soprattutto per la poca attenzione dell'uomo non influenzano l'innesco nel senso non sono cristali comunque da determinarne l'indesco ma il problema che favoriscono sicuramente la propagazione con queste temperature si ha più difficoltà ad estinguere un incendio in un campo aperto ed è per questo motivo che il comandante provinciale dei caschi rossi di Avellino intervenuto nella trasmissione punto di vista lancia un appello mantenere le buone pratiche per quanto riguarda anche lo smaltimento del fogliame la pulizia del sottobosco dove si parcheggiano le macchine nelle aree verdi l'uso del barbecue soltanto in aree attrezzate attenzione alle cicche di sigarette soprattutto soprattutto ogni volta che si avvista anche un incendio apparentemente piccolo chiamare sempre il 115 ed è corsa al mare proprio per il caldo torrido nelle città campane soprattutto per contrastare i colpi di calore vediamo le temperature torride di queste ore anche in campania rendono la vita difficile nelle grandi città e sempre più i cittadini scelgono il mare per cercare un po di refrigerio facendo un bel tuffo una bella doccia una bibita fredda e dopo quando si sente di nuovo caldo si ripete la stessa azione mare doccia e bibita è un po' fastidioso troppo caldo proprio cerchiamo di stare più freschi ma non se ne può proprio più ti bagni però appena vieni a terra ti asciughi subito è troppo rovente troppo fuoco caldo siamo tutta a giornata a mora buonissima la temperatura è estremamente elevata per cui sia in spiaggia sia sotto le palme si cerca un po' di ombra e si cerca di venire un pochettino incontro anche alle esigenze dei bambini che devono giocare sono un abituale frequentatore della spiaggia e a maggior ragione con questo caldo ma nonostante le alte temperature c'è chi sopporta bene il caldo estremo vabbè è un po' affocoso però si può stare a mare sopportabile almeno io lo sopporto il sole fa bene sono del 31 96 mesi ho fatto già il bagno ho camminato ho fatto ginnastica lo porto tutto freddo caldo tutto ho cinque figli tutti sposati tutti laureati ho 22 nipoti 12 volte bisnonna un vasto incendio con fiamme alte e fumo visibile da molta distanza si è sviluppato nella notte all'interno del campo nomadi di Barra a Napoli il cattivo odore dei materiali andati a fuoco plastica rifiuti si è diffuso anche nelle zone circostanti per motivi precauzionali è stata disposta la chiusura del tratto autostradale dell'A3 all'uscita di Napoli uscita limite ponticelli la polizia indaga per risalire le cause del rogo sul caso è intervenuto il consigliere Borrelli che ha sollecitato l'ARPAC a monitorare le condizioni e la qualità dell'area nell'area dell'incendio è in ballo la salute dell'ambiente e quella della cittadinanza ha rimarcato Borrelli e adesso parliamo delle comunali a Napoli i sondaggi confermano il netto vantaggio di Manfredi l'ex ministro stacca Catello Maresca il suo primo sfidante Bassolino è il terzo incomodo a schieramenti definiti si moltiplicano i sondaggi con l'avvicinarsi della scadenza elettorale per le amministrative l'ultima rilevazione è quella di Opinio Italia per la RAI che ha testato le intenzioni di voto nelle principali città che andranno alle urne a Napoli confermato il netto vantaggio di Gaetano Manfredi il candidato giallorosso sostenuto da PD e 5 Stelle viaggia con una forbice compresa tra il 42 e il 46% più indietro il principale sfidante Catello Maresca che nelle previsioni più ottimistiche potrebbe superare il 30% terzo incomodo nella competizione per la poltrona di primo cittadino Antonio Bassolino attestato tra il 14 e il 18% male invece Alessandra Clemente espressione dell'amministrazione uscente targata Luigi De Magistris che non raggiungerebbe la doppia cifra se le intenzioni dovessero essere confermate è evidente che a Napoli bisognerà attendere il ballottaggio per sapere chi sarà il prossimo sindaco intanto prosegue il confronto tra i candidati in un post su Facebook lo stesso Manfredi ha proposto un nuovo modello urbano per la Napoli di domani servizi territoriali di prossimità per una città più umana in ogni quartiere con nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita di tutti i napoletani ha spiegato l'ex ministro ma intanto nel centro-sinistra è caos liste con partiti e componenti in ritardo dalla segreteria politica di Gaetano Manfredi è arrivato l'out-out per presentare i simboli entro le prossime 24 ore resta però il rebus municipalità con circa 14 liste chiamate a contendersi 10 presidenze sono state trovate due reti fantasma dalla Guardia Costiera sui fondali rocciosi di Ischia sono queste le principali minacce per gli ecosistemi marini i sommozzatori della Guardia Costiera hanno portato alla luce nelle acque di Ischia due reti fantasma una della lunghezza di 20 metri e dal peso di circa 30 chili che giaceva sul fondale roccioso a 35 metri di profondità è una seconda dall'estensione di 100 metri e dal peso di circa 250 chili le reti fantasma sono tra le principali minacce per gli ecosistemi marini e quando sono abbandonate sui fondali continuano a svolgere la loro funzione killer senza lasciare scampo adagiate sui fondali vi sono ancora numerose reti abbandonate o perse che costituiscono i più pericolosi tra i rifiuti marini in quanto in grado di intrappolarne con grande facilità la fauna destinata così a morire rapidamente le plastiche che le compongono sono inoltre destinate a sminuzzarsi in piccoli frammenti le cosiddette microplastiche che ingerite dagli organismi marini alterano l'ecosistema ed entrano nella catena alimentare incidendo fin anche sulla biodiversità batterica dell'acqua nel Mediterraneo recenti ricerche condotte in diverse località indicano che gli attrezzi da pesca possono rappresentare addirittura la maggior parte dei rifiuti marini registrati con cifre che raggiungono anche l'89% la campagna Reti Fantasma 2021 è inserita nell'ambito del coordinamento delle iniziative in campo ambientale l'attività si è svolta all'interno dell'area marina protetta Regno di Nettuno e ha visto impiegati militari del secondo nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera di Stanza Portici supportati dal personale della Direzione Marittima della Campania e nello specifico dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia Ci spostiamo ad Apice nel Sannio dove è crollato questa mattina all'alba un ponte dell'Ottocento una tragedia annunciata dice il sindaco che è pronto a consegnare la fascia tricolore al presidente Mattarella momenti di paura seguita da rabbia tanta rabbia per il crollo di un ponte storico ad Apice nel Sannio si tratta di un manufatto del 1800 ricostruito in parte dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale e che da tempo attendeva un restauro totale o almeno la messa in sicurezza anche dopo i danni provocati dall'alluvione del 2015 all'alba le campate del ponte sono crollate all'improvviso i detriti e le particolari pietre con i mattoncini sono finiti nel fiume Calure sul posto sono accorsi i carabinieri il sindaco di Apice gli assessori i tanti cittadini per guardare i danni incalcolabili ed è proprio il primo cittadino di Apice che tuona contro gli enti a partire dalla provincia rei secondo il primo cittadino di non aver programmato lavori di somma urgenza per preservare il manufatto dopo una lettera emmiata a prefettura procura province e altre enti dopo un sopralluogo con la soprintendenza ai beni storici 15 marzo c'è un sopralluogo fatto dalla soprintendenza ai beni ambientali architettonici e la provincia di Benevento in cui mettevano in evidenza la necessità di fare un intervento di somma urgenza per mettere in sicurezza il ponte il sindaco Angelo Pepe è ora pronto fin anche a consegnare la fascia tricolore l'atto estremo che io sto ipotizzando e anche quello di prendere la fascia della comunità di Apice e portarla direttamente al Presidente della Repubblica perché io in queste condizioni il territorio non sono in condizioni di gestirlo e adesso parliamo di Avellino capoluogo sempre più povero di Verde due i platani abbattuti oggi a Viale Italia altri due quelli che verranno buttati giù nei prossimi giorni e c'è tanta rabbia tra i cittadini vediamo vengono giù altri due platani continua l'agonia di Viale Italia da questa mattina le operazioni di abbattimento degli alberi all'altezza della scuola Solimena secondo me è vergognoso togliere gli alberi dalla città tanto a poco la volta che stanno sparando tutti questa è la soluzione meno costosa però loro vittorne hanno ucciso un'altra è come se avessero ucciso una persona sono rimasti meraviglianti di questa cosa perché già Avellino è squallida come città il viale più conosciuto del capoluogo irpino si presenta ormai sempre più spoglio una cartolina sbiadita del passato ci vorranno anni per poterli vedere di nuovo com'erano sempre più poveri di Verde Avellino non veste già una quindicina gli alberi verso la clinica mazzone a destra e a sinistra ci vogliono per avere questa pianta qua sono 150-160 anni noi vabbiamo da sopra l'assessore Negrone fa sapere che presto ne verranno abbattuti altri due all'altezza della clinica Malzoni e non manca di puntare il dito contro l'assenza della regione ma promette il viale lo salveremo noi non c'è quasi niente da parte della regione per le nuove piantumazioni sicuramente questa amministrazione ha messo un milione di euro per rifare i viali platani e sicuramente faremo delle nuove piantumazioni e adesso l'emergenza covid nelle varie province andiamo nel Salernitano dove l'immunità di greggia è vicina e per questo la campagna non si ferma neanche a Ferragosto il camper mobile dell'ASL continua la somministrazione del siero nelle località turistiche ma a Salerno e provincia si lavora per vaccinare quante più persone possibile ovunque anche a ridosso di Ferragosto l'azienda sanitaria ha illustrato il piano di immunizzazione anche nei giorni di ferie con l'obiettivo di tagliare il traguardo dell'immunità di greggia di qui ad un mese certamente in questo periodo abbiamo qualche numero in meno abbiamo un dimezzamento dei numeri globali complessivi però riusciamo a tenere ancora aperti i centri vaccinali invece degli 8-9 mila al giorno ne facciamo 4-5 mila però riusciamo a reggere continuando in questo modo pensando già che dopo la terza e quarta settimana di agosto riprenderemo grandi numeri sui 50-60 mila metà settembre dovremo raggiungere i nostri obiettivi numeri alla mano l'ASL si dice fiduciosa del percorso intrapreso la priorità ancora una volta in queste settimane sarà indirizzata soprattutto ai più giovani con l'obiettivo di riprendere le lezioni in presenza sul nostro territorio in questo momento stiamo vaccinando anche pazienti anche persone che vengono da altri territori ieri sera ha vaccinato 300 persone a Casalvilino siamo al 73% dei vaccinati della popolazione generale con una dose siamo oltre il 60% dei vaccinati con due dosi che significa che siamo in condizioni di reggere questa avanzare della variante delta siamo al 43% della popolazione più giovane già vaccinata su questa popolazione faremo uno sforzo ulteriore perché dobbiamo essere in grado di garantire una tranquilla riapertura delle scuole il sindaco di Pietrelcina il presidente della provincia di Benevento attraverso l'arcivescovo della metropolia di Benevento hanno chiesto a Papa Francesco di nominare San Pio da Pietrelcina compatrono del Sannio con la Madonna delle Grazie ci racconta tutto Alessandro Fallarino San Pio compatrono del Sannio insieme alla Madonna delle Grazie la richiesta arriva dal sindaco di Pietrelcina Domenico Masone e dal presidente della provincia di Benevento Antonio Di Maria a margine della ricorrenza per il 111esimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale nel Duomo di Benevento dell'allora 23enne Francesco Forgione da Pietrelcina richiesta presentata all'arcivescovo metropolita Felicia Crocca che ora si farà interpretare presso Papa Francesca o del comune desiderio di proclamare San Pio compatrono del Sannio e questo può essere un esempio culturale prima che spirituale di un grande uomo per i laici per un grande santo per i cattolici quindi chiedere questo a Papa Francesco e fare un'eccezione farlo diventare copatrono naturalmente dopo la nostra signora delle grazie era è un atto di di affetto sì ma anche di ritorno alla coscienza che noi dobbiamo avere di noi stessi ora si dovrà attendere la risposta del Vaticano intanto esprime soddisfazione anche il Presidente di Maria e Padre Pio è un esempio per tutti sia per dal punto di vista diciamo ecclesiastico religioso ma anche per quello che ha fatto nella vita è stato un esempio per come ha vissuto la vita sua in povertà e ha dato sicuramente dei valori che saranno di riferimento per tutti noi arriva il disco verde da Palazzo Santa Lucia il Ferragosto Avellinese si farà luminarie fuochi ed eventi ma in città prevale lo scetticismo il Ferragosto Avellinese salvo arriva all'ok dalla regione ora l'amministrazione comunale in tre giorni farà un affidamento diretto e si monteranno le luminarie le luci il 14 agosto i fuochi piromusicali il 15 agosto logicamente io ho curato più una rassegna culturale che a differenza di due anni fa non è strettamente legata al al Ferragosto per evitare assembramenti parliamo quindi di attività musicali di valorizzazione quindi di gruppi locali ma anche tanto teatro cinema all'aperto mostre fotografiche spettacoli di danza confermato anche l'evento clu con lo show di Paolo Antoni Biagio Izzo Stefano Di Martino in programma il 27 a Campo Genova è un evento che non viene direttamente da noi ma che con molto piacere promuoviamo e per il quale noi abbiamo dato massima disponibilità per una collaborazione ma i commercianti del centro restano perplessi come al solito ci siamo ossi tardi e a qualcuno non resta che aggrapparsi al sarcasmo e all'ironia siamo persone fortunate quindi ringraziamo il sindaco e tutta la giunta si chiede per Avellino una reale programmazione che non è soltanto la festa del 15 agosto che veniva fatta meglio nell'ottocento che oggi però meglio tardi che mai ci accontentiamo lo dico alla serinese che se le sparagnano fanno meglio perché direi che adesso c'è il movimento l'aspettativa del ferragù che lo mettono solo per quel giorno non serve i finanzieri di capo e i baschi verdi del pronto impiego di Aversa codiuvati dalle unità cinofile hanno posto sotto sequestro un'intera piantagione di cannabis indica illegalmente coltivata nelle campagne di Calvi Risorta costituita da ben 106 piante di altezza variabile tra 1 e 3 metri la coltivazione era gestita da un imprenditore agricolo sessantenne originario di Giuliano in Campania che è stato arrestato per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti da tempo i finanzieri attraverso osservazioni e appostamenti tenevano sotto controllo l'imprenditore conosciuto in più come coltivatore di alberi da frutta la piantagione era dotata di un ingegnoso e complesso sistema di autoirrigazione l'uomo è stato portato in carcere a Santa Maria Capoavetere mentre le oltre 100 piante di cannabis sono state sequestrate avrebbero fruttato sul mercato oltre 100 mila euro cambiamo argomento si è rinnovato a Ravello il tradizionale appuntamento con il concerto all'alba un appuntamento suggestivo che attraverso la musica si è rivelato anche un segnale di rinascita e speranza ci racconta tutto Filippo Notari il nascere di un nuovo giorno è stato accompagnato da una musica sublime che ha incantato il rapito il pubblico del Ravello Festival come ogni anno la città della musica ha ospitato il tradizionale concerto all'alba un evento clou caratterizzato dal suggestivo passaggio dalla notte al giorno e che quest'anno ha rappresentato anche un segnale di rinascita e speranza non a caso il significato del passaggio dal buio alla luce è stato sottolineato dal direttore d'orchestra James Conlon che a fine concerto richiamato sul podio dagli applausi del pubblico ha concesso come bis l'ultimo movimento della pastorale di Beethoven come augurio per un futuro di serenità per l'umanità così provata dalla pandemia sul palco del Belvedere di Villarufolo l'orchestra giovanile Luigi Cherubini ha eseguito un programma monografico dedicato al Beethoven delle sinfonie numero 8 e numero 6 uno spettacolo unico che ha regalato alla platea del Ravello Festival un concerto di grande spessore e coinvolgimento emozioni rese ancora più forti dall'incantevole location che al sorgere del sole si è manifestata in tutta la sua bellezza lasciando senza fiato il pubblico presente da parte mia è tutto il Tg finisce qui grazie ad Enrico Coppola in regia e buon proseguimento su 8 Channel TV e buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.